ciao a tutti ben tornati nel mio canale oggi video dedicato all'azienda everyday deals per chi si fosse perso tutti i video dedicato a questa azienda ve li lascio nell'info box insieme anche al codice sconto che l'azienda ha riservato ai miei iscritti in questo video vi mostro l'aggiornamento di questa tela scelta appunto nella mia penultima collaborazione con questo sito nell'ultima collaborazione invece se vi siete persi quel video ve lo linko qui nella e di informazione e ho scelto un'altra fantastica tela e anche un carinissimo puzzle quindi vi lascio tutti i link utili nell'info box e anche nella e di informazione adesso vi lascio le immagini con i progressi fatti con questa tela buona visione 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.